Sta per iniziare una nuova intensa settimana per l'Avellino. Una settimana che porterà in dote nuovi annunci dopo quelli degli acquisti di Biraschi, Nitrianschi, Offredi, Rea, Bianco e Giron. E' conto alla rovescia per l'ufficialità degli arrivi di Tavano, Gaiardini e Roberto Insigne e c'è ottimismo anche per quanto riguarda la definitiva fumata bianca per Ligi, dopo qualche tentennamento del patron pugliese Paparesta, che ha comportato un rallentamento della chiusura della trattativa nonostante gli accordi ampiamente raggiunti. Intanto, come comunicato mercoledì scorso dall'US Avellino, il presidente Walter Taccone parteciperà a diversi incontri con i tifosi della provincia. Sarà l'occasione per dialogare a tutto tondo con i sostenitori bianco-verdi su un ventaglio di tematiche con l'obiettivo di cementare sempre di più il rapporto tra società e supporters. Il tour in provincia inizierà domani. Il presidente sarà a Montella, dalle ore 17.30 presso il club Adriano Lombardi in piazza Bartoli. Martedì 30 giugno alle ore 18.30 il patrono incontrerà i tifosi del Montorese, dell'Interlande e della Valle dell'Irno, che si raduneranno presso il locale bar Pizzeria Civico 1912 di Banzano di Montoro in Via Nuova. Mercoledì 1 luglio sarà il club Gian Pietro Tagliaferri di Altavilla Irpina ad accogliere il presidente Taccone. Alle ore 17.30 in via Fratelli Severini.